Qualche anno fa io e mio marito abbiamo avviato un'azienda agricola sulla collina di Sant'Ilario. La nostra azienda è specializzata nella produzione di funghi, il nostro prodotto è un prodotto di nicchia, di alta qualità, le tecniche di coltivazione sono tecniche innovative e tutto il nostro lavoro, le nostre fatiche sono proprio finalizzate ad ottenere un prodotto di elevata qualità, rivolto soprattutto alla ristorazione. Il nostro punto di forza è anche quello di essere intervenuti su un territorio abbandonato ormai da tanti anni. La presenza su questo territorio è quella proprio di valorizzare le potenzialità di questo territorio e di presidiare comunque un patrimonio che è stato abbandonato e che è stato anche dimenticato. Tutto questo però è stato reso possibile grazie all'intervento del PSR e della misura 112 e 121 che comunque ha incentivato la nostra scelta e ha reso possibile comunque il nostro lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.